L'assessorato al lavoro e formazione della Regione Piemonte e IMSI insieme per contribuire a fornire informazioni semplici e chiare per aiutare i cittadini ad orientarsi al meglio in merito. Alle disposizioni in attuazione dal 1 agosto per i percettori del reddito di cittadinanza. Nel Novarese, i nuclei familiari cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza sono 383. In Piemonte sono complessivamente 7.299. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.